Bisogna assolutamente aiutare chi ha bisogno, bisogna cercare di essere solidali. A volte basta un niente, basta un sorriso, basta una parola, basta un gesto. Bene, mi raccomando, stiamo vicino alle persone che soffrono. Basta veramente molto, molto, molto poco. E se ci uniamo tutti insieme ce la possiamo fare. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e ovviamente tutti assieme possiamo aiutare. Ciao, grazie.